Ben ritrovati amici di RomaGiolaRossa.it da parte di Marco Viodi e allora oggi parliamo di calciomercato perché sono molte le trattative che la Roma sta portando avanti in questo periodo soprattutto non solo in entrata ma anche in uscita perché dopo che la società, la proprietà, i fritkin hanno speso 90 milioni sul mercato cash adesso bisogna comunque andare a cedere i giocatori quelli in esubero, quelli che non sono più, che non fanno più parte del progetto Roma chiaramente stiamo parlando di Tami Ebram, Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Shomurodob, Darbo, Zaleski e Solbakken questi sono i nomi principali a cui si potrebbe aggiungere anche uno tra Zaleski e Bove se non tutte e due saremo a vedere, poi ne parleremo più approfonditamente di queste situazioni chiaramente la Roma conta di avere almeno una cinquantina se non di più, 60 milioni da queste cessioni comprensibili di risparmi di ingaggio e di cartellini ai giocatori che bisogna vendere quindi almeno una sessantina di milioni che non sono poco per reinvestirli poi nel mercato e rinforzare quei ruoli come difensore centrale, come il terzino destro, come il centrocampista e come l'esterno alto a sinistra detto che la Roma sta cercando di cedere Tami Ebram come abbiamo detto e Ebram ha dato il suo gradimento al Milan il Milan che non vuole pagare comunque il cartellino, l'intero cartellino dei giocatori del giocatore di 25 milioni di euro almeno che chiede la Roma ma vorrebbe inserire delle contropartite che però la Roma ha chiesto Salemakers e Ocafor il Milan ha risposto di no sia per tutti e due i giocatori, sia per Salemakers che per Ocafor insistono i giallorossi a chiedere 25 milioni il Milan da questo orecchio non ci vuole sentire e non vuole spendere di più per Tami Ebram quindi vuole inserire le contropartite per abbassare chiaramente il prezzo del cartellino se queste contropartite che li propone da Roma chiaramente non vengono accettate dal Milan è chiaro che l'affare non si concluderà a breve quindi bisogna ancora aspettare per Ebram al Milan se non ci sarà un'accelerazione in questi giorni è chiaro che Ebram ha rifiutato le proposte dell'Eberton e del West Ham e in questo momento il Milan è in pole ma solo virtualmente per la preferenza chiaramente del giocatore Karlsdorp, un altro nome su cui si è parlato molto sapete che Karlsdorp è fuori rosa o comunque si allena a parte comunque si può dire che è fuori rosa Karlsdorp ha ricevuto varie offerte della Turchia dal Transonspor e dal Besiktas oltre che da altri club come in Grecia l'Ecappatene la squadra in vantaggio in questo momento per prendere Rick Karlsdorp è proprio il Besiktas dove è andato da pochi giorni anche Ciro Immobile il Besiktas che pagherebbe lo stipendio del giocatore se si mettono d'accordo Besiktas e giocatore dovrebbero avere un accordo comunque sul suo stipendio di 2 milioni e 2 manca ancora d'accordo tra Besiktas e Roma la Roma chiede 3 milioni di euro non dovrebbe essere difficile trovare un accordo vedremo in queste 24-48 ore se si riesce a sbloccare la situazione la Roma rispermerebbe 4 milioni lordi più di 4 milioni lordi da questa operazione perché Karlsdorp ha bilancio e ha oltre 4 milioni lordi Smalling, altro giocatore in uscita ma è da monitorare perché gli arabi insomma l'Arabia Saudita potrebbe tentare è l'unico paese che potrebbe tentare realmente Smalling Smalling ha bisogno comunque di un'offerta economica e di un club che cerchi di fare una proposta economica importante solamente a fronte di una proposta economica importante Smalling potrebbe partire in questo caso non si registrano attualmente club arabi interessati a Smalling e quindi staremo a vedere quello che succederà in questi giorni per fare entrare chiaramente un difensore centrale si è parlato di Badè del Siviglia il cui prezzo è molto alto costa almeno 20 milioni però devono uscire uno tra Smalling e Kumbulla Kumbulla interessa al Parma il Parma però ha un problema non può pagare l'ingaggio del giocatore quindi la Roma dovrebbe contribuire e si potrebbe profilare una trattativa o comunque un passaggio di Kumbulla in prestito con diritto di riscatto questo è quello che ci è pervenuto a noi quindi Kumbulla potrebbe partire in prestito e parte dell'ingaggio potrebbe essere pagato dalla Roma e parte chiaramente dal Parma Darboe è cercato dalla Sampdoria da Frosinone e dalla Salernitana la Sampdoria si è giocato l'anno scorso si è trovato molto bene Frosinone e Salernitana sono due no entry quindi tutte e tre le squadre in Serie B che cercano Darboe e anche qui comunque sarebbe una plusvalenza qualora riuscisse la Roma a cedere il giocatore non in prestito ma a titolo definitivo detto di Shomurodov che interessa al Berona e si sta tentando l'assalto decisivo affinché si possa concretizzare l'operazione c'è da parlare anche degli altri giocatori come Zaleschi e Bove che potrebbero partire uno dei due se non tutti e due allora Zaleschi è chiaramente subordinato dall'arrivo eventuale dell'esterno offensivo alto no? dell'esterno offensivo a sinistra e qui poi c'è tutto un discorso da fare che lo faremo nei prossimi giorni perché tra Chiesa, Nusa, Galeno eccetera ci sono tanti nomi che la Roma sta abbagliando ma al momento nulla di concreto per quanto riguarda appunto Bove Bove, la Roma se arriverà un'offerta importante cioè che valuta il giocatore di 18 milioni di euro la Roma valuta Bove di 18 milioni di euro allora si potrà parlare di una cessione di Bove magari la Fiorentina che è la squadra che si è che ha mostrato più interesse nei confronti di Bove altrimenti per meno di 18 milioni di euro Bove non parte quindi anche qui dovranno cercare dovrà cercare la Roma di come dire di o la Fiorentina o chi per loro che vorrà Bove di andare verso le richieste della Roma detto di Pupil il terzino destro che sembra vicino alla Roma ormai ha l'accordo con l'Atalanta è notizia di questa notte la Roma sta spingendo per avere qualcosa di meglio sulla fascia destra per quanto riguarda il terzino il sogno sarebbe Berlanova però il Torino non molla chiede 25, 20, 25 milioni e per la Roma sono tanti se non si fanno prima le cessioni come abbiamo detto da 50, 60 milioni di euro almeno sul mercato in uscita quindi Berlanova in stand by Berlanova ha espresso il gradimento verso la piazza giallorossa quindi ha dato già il suo sì verso la Roma ora sta chiaramente alla Roma e al Torino trovare un accordo se si vorrà trovare perché il Torino in questo momento fa muro queste sono le principali notizie di mercato condensate in circa 9 minuti io vi ringrazio, vi saluto e ci ritroveremo naturalmente domani mattina per ulteriori notizie di calciomercato riguardanti la Roma e cercheremo in questo mese di agosto fino praticamente al 30, 31 quando finirà il calciomercato di informarvi quotidianamente sulle principali notizie di mercato della Roma vi ringrazio e vi saluto